ciao ragazzi vi faccio vedere come si fa lavapiatti faccio vedere piano piano così imparate veloce voi imparare lavapiatti non serve di romano anche laureata guarda fare o prima cosa di lavare bene con acqua il sapone poi da riempire tutto la sette guarda qua stende guarda visto potete vedere bene guarda in Italia lavoro di ristorante imparate bene guarda il nostro lavoro di aspetto quando sono bravo anche ma veloce allora l'unica cosa che non deve accadere vedi che modo del totale che metti perché non mette uno sopra di altro perché non mette uno sopra di altro ecco hai capito non devi mettere uno sopra di altro dopo quando è piatto di pizza cambiata spugna questa che c'è l'altro perché? perché la mozzarella si attacca con il piatto non si lavava con la spugna normale perché non ti fa male la... vedi come si dice? spagnolo taglia 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 questo piatto pesante se non vuoi che ti faccia male il pozo la pozo e la rosso e se non fai così fa sempre come le basse ragazzi guardate bene guardate bene come si lavava per cui è un modo italiano eh no cinese no paghistano non inglese è vero o no Andri? certo perché l'unica cosa che quando passa l'asla anzi vedo prima di cosa vedo il piatto che è pulito o non è pulito quando è riempito tutto guardate voi quando è riempito tutto eh non è che è la metà guardate ragazzi quando è finito il giri guarda guardatevi ecco senti l'umore ecco attacca iscritto INDE tornato come normale vuol dire che è pronto appena è finito il giri guarda come si caccia non si alza cacciare così modo totale guarda e puliti pulitissimi tutte cose però dovete lasciare cerca 10-15 secondi così non trovate l'acqua si scola tutto si sciotto è perfetto grazie 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 grazie